Quest'anno il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra a migliorarsi e migliorare i risultati dell'anno scorso. In questi due anni comunque darò il massimo, cerco di migliorare me stesso per poi provare a fare un giorno un salto. Quali sono le tue caratteristiche tecniche principali? La mia caratteristica tecnica principale è il cross, gli ultimi hanno sviluppato bene l'Atalanta e poi me la cavo anche nel dribbling.